bentornati in un altro episodio di coltivazione appresa diretta diamo uno sguardo rapido al nostro settore di pomodori colorati di tutti i colori sì allora partiamo da quello più brutto questo è il pomodoro zebrato doveva essere ma diciamo che un pomodoro marrone ok sì non è il massimo diciamo che si è indebolito parecchio a causa di soprattutto il clima è stato parecchio monello infatti vediamo che la coltivazione presenta diversi difetti forse il primo che si vede sarebbe la mosca minatrice che sta mangiucchiando le foglie però diciamo che non è una cosa grave questa è il minore dei mali vediamo che la coltivazione è abbastanza non è non è uniforme ecco vedete questa pianta ad esempio è più piccolina ora non mi mette a fuoco così mi fa innervosire questa cosa disgraziata e ci sono le piante più robuste anche quindi sia a livello di fruttificazione ecco non c'è uniformità vediamo che vabbè questo un grappolino alto vediamo che ci sono grappoli più grandi con più numero di frutti e con frutti magari più grossi e grappolini più piccolini ecco questa è la colorazione che prende quando è quasi maturo al cento per cento vedete diciamo che è simpatico come pomodoro però potrebbe essere meglio ecco non è il massimo non mi piace moltissimo dai poi soprattutto questa pianta infatti essendo più deboluccia vedete questa pianta sta crescendo praticamente da poco era indietro e adesso è cresciuta in questi giorni molto e quindi infatti è tutto da sistemare non ci fate caso comunque vi faccio vedere anche le malattie fungine questa era per onospora vedete ma perché non mi metto a fuoco sto coso non lo so a volte fa così vedete qui spero di farvi vedere questa era dico era per onospora perché dopo il trattamento di due giorni fa è diventata così guardate è completamente rinzecchita è morta va bene questo i trattamenti sapete come li facciamo ci sono i vari video dedicati c'è la playlist andate a guardare nella home page del canale comunque il prodotto quello micidiale è il natural micro e senza rame questi sono risultati senza rame fra parentesi ora andiamo a vedere gli altri che sono più fighi molto più fighi eccoci nel pomodoro datterone arancione bellissimo questo ancora è una varietà di prova non ha un nome quindi lo chiameremo datterone arancione fino a quando non avrà un nome questo sì che è figo fighissimo guardate che grappoloni bello ne ha parecchi pomodori grappoli andiamo a vedere che ha un interno do se vogliamo un po lunghetto però insomma si fa si fa guardare diciamo noi tutte le piante hanno parecchi pomodori produce tanto la colorazione è bella questo arancione vivo questi frutti più maturi si vedono bello 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 bellissimo pomodorone arancione ok ne parleremo ovviamente non vi resta che seguire il canale se non lo fate già iscrivetevi ne parleremo bene spero un giorno in questo periodo vedete anche lì in fondo ci sono proprio già abbiamo raccolto un paio di grappoli considerate ma ce ne sono di pomodori e poi c'è l'altra figaggine questa è la figaggine della figaggine guardate qua il pomodoro nero pomodoro ecco sempre mette a fuoco ok pomodoro nero a grappolo tondo liscio scusate nero a grappolo che che vi devo dire sorprendente intanto è un esclusiva ecco ci tengo a sottolineare questo guardate che spettacolo ha lo stesso pigmento della melanzana questo è un esclusiva nostra di azienda agricola morana mario bellissimo non lo troverete in giro quindi anche qui vi parlerò dei dettagli queste due varietà quindi l'arancione e questo nero sono di agrisementi ne parleremo ripeto magari insieme a salvo dai bello bello molto bello questo se non so cosa sembrano prugne vediamo un po per farvi vedere la pezzatura considerate la pezzatura ideale di questo pomodoro vediamo prendiamo un grappolo e media quindi non è un ciliegino e un ciliegione infatti lo chiamo perlone perlone nero che ribattezzato questo lo chiameremo perlone nero eccoci nel piccadilli ecco facciamo midi plum giallo va bene qui vediamo che va bene pure va bene questa coltivazione cerchiamo di vederla meglio ovviamente c'è qualche problemino quella guardate questa è tuta assoluta e sì perché da noi praticamente l'estate dopo l'estate c'è stato una sorta di continuazione così di caldo umido fino a fino a ora se vogliamo quindi questo sta andando bene l'unico problema grosso ecco l'unico però è grosso come problemi oltre i pomodori che sono grossi ci sono i pomodori che spaccano questo è un problema stiamo rilevando ai mesi e non è una varietà che spacca moltissimo però con questi sbalzi climatici diciamo di temperature e forte umidità abbiamo avuto questo problema però per il resto la fruttificazione c'è le piante sono produttive pazienza che dobbiamo fare e vediamo anche la colorazione della foglia ottima le piante sono bene o male uniformi quindi la coltivazione omogenea abbastanza omogenea fino alle parti apicali vedete sono in buona salute e fruttificano bene c'è qualche pianta un po più indietro come questa però anche qui vediamo che la colorazione è ottima ora non so come si vedrà dalle immagini ma penso un'idea man mano i frutti ecco prima di andare in maturazione e raggiungono una bellissima pezzatura ora metto la mano così per farvi capire un po la pezzatura la grandezza e c'è il problema dello spaccato si speriamo di andare un po a mantenere questo problema ma non si possono fare miracoli ecco con questo clima veramente problemi grossi sotto questo punto di vista guardate che sono belli quando maturano non ho capito se è una questione di illuminazione ma mi sta innervosendo questa cosa va bene passiamo avanti ecco quinto e ultimo pomodoro colorato quindi varietà di pomodori colorati questo qua si vedrà sicuramente è datterino giallo vedete la pezzatura è più piccolina anche qui problemi il problema grosso è stato guardate questi puntini qua si vedono o non si vedono io non so che fare ragazzi non mi metto a fuoco bene sto impazzendo mamma mia comunque sono questa era anche questa era guardate sotto ma che cacchio perché non metto a fuoco guardate ce n'è diversa cercherò di non dire brutte parole ma la vedo male non ho capito perché non metto a fuoco è impossibile allora questa qua era antracnosi va bene è stata curata anche questa abbiamo dovuto fare un paio di passaggi perché è una malattia aggressiva quindi vediamo che la pianta guardate fino a questa altezza ancora c'è qui siamo a un metro e qualcosa poi finalmente l'abbiamo curata è fermata completamente perché perché come diceva una malattia aggressiva e rapida comunque sia la pianta ovviamente un po si è indebolita a causa di questa malattia ma con ripeto il clima che abbiamo avuto e abbiamo ancora possono succedere questi eventi così immaginate che ci sono diversi colleghi che mi hanno confessato che sono invasi dalla tuta assoluta in inverno in inverno siamo in gennaio il ricordo comunque questo qui è simpatico simpatico anche questo abbiamo fatto l'anno scorso insieme al midi plum di prima questo lo abbiamo coltivato anche l'anno scorso c'è una buona fruttificazione ecco non niente di che ai me con questi problemi che abbiamo avuto sotto questo punto di vista non è il massimo però dai qualcosina speriamo se continua così vedete che la parte superiore sta continuando a fruttificare quindi e ma speriamo bene insomma non è il massimo nemmeno questo effettivamente colorati quest'anno non sono venuti eccezionali a livello di produttività però vi assicuro che come qualità ci siamo comunque se ora non so se si vedrà bene anche se i grappolini non sono molto grandi ce qualcuno mamma mia che luce brutta ce n'è qualcuno più grandicello la maggior parte sono piccoli però gli internauti sono abbastanza ravvicinati quindi qualcosina c'è di pomodoro meglio di niente ok io vi saluto vi ringrazio al prossimo video mi raccomando fate i bravi picciotti ciao